La storia del film è una storia vera, purtroppo, nel senso che non è una storia vera, però è la verità degli anni 90, dei 2000, dei 2010, sempre. Io interpreto la mamma di uno dei due protagonisti, di Luca Marinelli, che è il personaggio negativo, fra virgolette, insomma, che paga con la vita questo percorso evolutivo, dissolutivo. È stato paradossalmente, per certi versi, semplice da interpretare, nel senso che io l'ho sentita immediatamente questa cosa, infatti io non conoscevo Claudio, non conoscevo nessuno, non conoscevo Valerio, sono un'attrice fondamentalmente di teatro, però ho fatto un provino e il primo provino è andato bene. Ho lavorato con uno dei miti per me del cinema italiano, nonostante i pochissimi film girati. No, ma infatti io trovo che questa iniziativa dell'ANAX sia straordinaria, proprio, e veramente spero di vederla in tutte le biblioteche d'Italia, proprio. Grazie a tutti voi che la state attuando, veramente, grazie a tutti i direttori di biblioteca, grazie all'ANAX, ad Alessandro, che è con la passione, soprattutto. La sala è piccola, però era piena, quindi è bellissimo, davvero. Grazie, continuate.